Disabilità e benessere, a cura di Emanuela Fatilli per la redazione di Senza Barcode. Consigli, strategie e piccole curiosità per rendere la vita dei nostri ragazzi super abile. Buonasera a tutti e bentornati a Disabilità e Benessere. Questa sera andiamo a caccia di parole. E sì, perché le parole possono essere muri o ponti, possono creare distanza o aiutare la comprensione dei problemi. Le stesse parole, usate in contesti diversi, possono essere appropriate, confondere o addirittura offendere. Quando si comunica, occorre dunque precisione e consapevolezza del significato o del senso delle parole. Con questo incipit, l'Università Inclusiva degli Studi di Padova, o meglio il Centro di Ateneo per la Disabilità e l'Inclusione dell'Università di Padova, fa questo studio a seguito di una ricerca condotta sulle maggiori testate giornalistiche italiane, sui siti, sui blog, nel web in generale, e dando voce anche agli addetti ai lavori, diciamo così, alle famiglie con persone con disabilità, ai disabili stessi, per capire quali sono le parole maggiormente usate per definire la disabilità oggi in Italia. L'Università Inclusiva di Padova aveva già denunciato, diciamo così, anni fa il fatto che in Italia, ancora nel 2007, si facesse riferimento all'ICDH, che era il vecchio ordinamento delle disabilità, cioè della classificazione delle disabilità e degli handicap, che non è più in uso dal 1999. Quindi bisognerebbe fare riferimento all'ICF, che è il nuovo ordinamento e la nuova classificazione. Questo è problematico perché viene utilizzato anche nelle documenti amministrativi. Non a caso la legge quadro 104, la famosa legge 104 del 92, parla ancora di persona handicappata. Oggi fortunatamente sono tanti quelli che cercano di attirare l'attenzione sulle parole. Abbiamo parlato nelle puntate scorse dei disability studies e i curatori meritevoli di libri divulgativi che cercano di parlare soprattutto a giornalisti, amministratori, conduttori televisivi. Cioè quali sono le parole che devono essere utilizzate nell'essere sociale del 2020 per comunicare la disabilità. Benché il ricorso di un linguaggio scientifico non sia sicuramente l'unica cosa per arrivare dei cambiamenti ed un atteggiamento, diciamo, diverso nei confronti delle persone che spesso sono sottoposte a discriminazioni, quindi le disabilità, il genere, la povertà, eccetera, è anche vero che chi si occupa di questioni di inclusioni dovrebbe avere a cuore la qualità di tutte le persone e quindi dovrebbero avvertire l'obbligo deontologico di ridurre l'idea stigmatizzata, l'idea decontestualizzata che spesso invece troviamo in abbondanza, appunto sia sui giornali che nell'uomo. Anche perché, come diceva già Bicklen nel 1985, l'uso di espressioni inadeguate può rinforzare una serie di effetti negativi associati a luoghi comuni. Diventa quindi fondamentale vedere che tipo di narrazione bisogna fare quando si parla di disabilità e quindi bisogna partire da quali tipi di modelli di disabilità si tende a fare riferimento quando ci si occupa di inclusione, quali documenti appaiono e quali riusciamo a trovare nelle biblioteche, sul web, dappertutto, quando voglio favorire l'inclusione. Se devo fare un lavoro di inclusione, che cosa mi trovo davanti, quali sono i documenti che trovo e quali sono appunto le idee che mass media danno nel nostro paese a proposito delle questioni associate alla disabilità. Abbiamo già parlato del fatto che il modello prevalente sia quello medico, che appunto che fa riferimento sempre all'ICDH, appunto che ormai è fuori uso dal 1999 e quindi infattizza il ruolo esercitato dalle menomazioni, dalla disabilità, dagli handicap della persona. Quindi infattizza il fatto che una persona abbia quell'handicap a discapito della persona stessa. Oppure c'è il modello prevalentemente sociale. Abbiamo detto che invece l'origine della disabilità si ha da vedere soprattutto nella società che decide che cosa è normale e che cosa è diverso, per cui la disabilità è un fatto fondamentalmente sociale, di logica del pensiero sociale. E poi c'è quello biopsicosociale che fa riferimento all'ICF, cioè all'ultima classificazione della disabilità che è stato proposto appunto dall'OMS da quasi un ventennio e che è sostenuto da una maggior parte dei ministeri della salute, del lavoro e delle istruzioni, che però non è ancora effettivamente molto percepito nelle zone più basse. Quindi là dove si fa terapia, dove si fa scuola, dove si fa didattica, cioè effettivamente dove dovrebbe arrivare. Proprio perché c'è una mancanza di comunicazione, cioè gli studi a livello accademico ci sono. Si stanno portando avanti, stanno evolvendo e ripeto, stanno dando anche diverse conclusioni, alcune più o meno condivisibili, però sempre molto vaste e molto diverse e molto interessanti, ma purtroppo non sono ancora percepite dal basso, diciamo nel basso, perché comunque quelli che dovrebbero diffondere questi tipi di informazioni, quindi i mass media, internet, eccetera, sono un po' ancora vuoti di queste informazioni. Facciamo diventare di moda la sicurezza. Le mascherine filtranti monouso FFP3 distribuite da Life Care sono conformi alle indicazioni del Ministero della Salute. Life Care mette a disposizione 14.500 mascherine FFP3 per uso personale e per gli amici che ascoltano Web Radio senza barcode c'è uno sconto del 20%. Ogni pacchetto contiene 5 pezzi. Solo da Life Care e nel limite di 14.500 pezzi è possibile acquistare mascherine FFP3 al prezzo di 4,50 euro a luna. Per ordinare le mascherine FFP3 visitare il sito www.noiuniti.it nella sezione Novità, nell'ordine indicare sconto senza barcode. E soprattutto perché i modelli diciamo più interessanti sotto questo aspetto c'è il modello quello della Capability di Sen che insieme a Nussbaum, ricercatrice e filosofa, che nel 2006 hanno fatto un sacco di studi che hanno portato al dibattito più sullo sviluppo umano, sul valore della libertà e dell'uguaglianza e il modello che è quello della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, quindi sui diritti umani che è stato emanato, si basa su una società paritaria. Ecco, questi modelli sono ancora un po' assenti all'interno delle testate giornalistiche e all'interno del web. Ma andiamo più nel concreto. Allora, questo studio praticamente si occupa di selezionare i contenuti di articoli appunto sia sulle testate giornalistiche, sul web e sui blog che sono stati fatti tra il 2015 e il 2016. Nel 2015 e sono state presi in esame in questa ricerca più di 67.000 testi, quindi direi un buon numero di testi. In questi 12 mesi a quale fa riferimento lo studio c'era in mezzo l'Expo di Milano, le Parolimpiadi e poi c'erano naturalmente programmi molto seguiti come il Festival di Sanremo e altri programmi appunto molto seguiti che naturalmente hanno preso una buona parte di articoli diciamo sia sui giornali che sui blog. Hanno riunito poi appunto in questo studio l'Università di Padova, riunisce poi appunto in cluster. Un primo cluster che sono quegli articoli accumulati dall'interesse nei confronti del binomio sport e disabilità. In particolare più che alla Parolimpiadi faceva riferimento all'aumento di numerosi militari in America con invalidità civile e quindi un po' come succede a noi che la maggior parte degli olimpioni ci fanno parte delle fiamme oro o comunque di organi dello Stato, così anche in America questa cosa sta andando aumentando soprattutto per l'invalide civili e quindi tanti articoli erano su questo argomento. Un altro cluster era legato all'accessibilità proprio rispetto al tema di Expo, era il periodo in cui appunto c'erano tanti articoli dove si rinunciava l'impossibilità magari di raggiungere facilmente per una persona disabile il centro dell'Expo eccetera. Un terzo cluster era quelli che parlavano della disabilità in modo diciamo così creativa ed originale e c'erano anche quelli che avevano fatto riferimento al libro Disability Kill che avevo parlato anch'io in un podcast che erano dei fumetti dove si parlava un po' sorridendo della disabilità e quindi anche questo argomento ha portato via diciamo un po' di articoli, un po' di interesse da parte dei media. Un altro cluster era, è dedicato a tutti gli articoli formato da segnalazioni di sopprusi, ingiustizie soprattutto petizioni di genitori, familiari e disabili che in qualche modo rinunciano qualche difficoltà che possa essere legata alla scuola, al difficoltà di inserirsi nella scuola, nei trasporti eccetera e questo quindi è un altro cluster. Un quinto cluster era legato a temi più che altro della moda e dello spettacolo e si faceva riferimento in questo caso alla presenza di Ezio Bosso al Festival di Sanremo che aveva portato appunto questa disabilità senza dis a Sanremo. Il sesto cluster invece faceva riferimento a tutte le campagne invece di comunicazione e di sensibilizzazione realizzata dai media a supporto di progetti e per fondazioni con disabilità quindi i vari hashtag di Teleton, non mi arrendo e tutte queste campagne di sensibilizzazione. Inoltre hanno appunto non solo studiato, non solo fatto una ricerca sulle testate sul web ma hanno anche seguito delle narrazioni di gruppi di insegnanti di sostegno e tutor dato particolarmente risalto anche ad articoli online di superando.it e proprio a relazioni invece di gruppi di ricercatori interessati per quanto riguarda la comunicazione e dell'inclusività. Facciamo diventare di moda la sicurezza per la nostra vita. Le mascherine mediche validate anche come chirurgiche dal Ministero della Salute con relativo nulla osta distribuito da Life Care sono in pacchi da 50 pezzi e sono realizzate per la protezione di ciò che innaliamo da naso e bocca. Si raccomanda di sostituirla ogni quattro ore in caso di lavoro in presenza di fumi o polveri ridurre il tempo del cambio così come suggerito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La sicurezza di noi stessi e di cui ci circonda è un diritto e un dovere civico. Life Care mette a disposizione 20.000 mascherine mediche validate anche come chirurgiche per uso personale e per gli amici che ascoltano Web Radio senza barcode c'è uno sconto del 20%. Ogni pacchetto contiene 50 pezzi. Solo da Life Care e con questa promozione è possibile trovare le mascherine mediche validate anche come chirurgiche al prezzo di 0,40 euro nulla. Per ordinare le mascherine mediche validate anche come chirurgiche visitare il sito www.noiuniti.it nella sezione Novità nell'ordine Indicare sconto senza barcode. Quando hanno raccolto tutti questi dati hanno potuto fare dei grafici dove hanno diviso le parole in altamente stigmatizzanti e inclusive e praticamente è interessante vedere come le parole altamente stigmatizzanti sono quelli appunto riferibili sempre all'ICDH quindi alla vecchia visione della disabilità dell'ICDH del 1999 dove si parlava appunto di disabili, studenti disabili, lavoratori disabili eccetera. Le parole invece stigmatizzanti che sono associate più all'ICF e quindi alla nuova classificazione che è attiva appunto dopo il 1999. L'espressione diversamente abile considerata questa etichetta assolutamente stigmatizzante però ormai usata quasi zero perché è considerata appunto non politicamente corretta e soprattutto perché nella maggior parte dei casi serve solo a creare pietismo. Al termine quindi le considerazioni che vengono fatte sono che naturalmente la maggior parte delle testate giornalistiche più importanti usano molto spesso parole stigmatizzanti, altamente stigmatizzanti molto meno fortunatamente e che naturalmente le testate più ricercate dove ci sono pubblicazioni appunto di studi quindi un po' più idoneo. Hanno quindi anche cercato di capire queste testate a quale modello si rifacessero e naturalmente è venuto fuori che la maggioranza delle testate compresa anche superando.it fanno comunque sempre riferimento a modello medico e un po' meno alle visioni più complesse che sono modello sociale a capability e diritti umani. Le considerazioni quindi che l'università inclusiva di Padova si fa è questa parte da una frase di Pirandello in sei personaggi in cerca d'autore ma come possiamo intenderci se nelle parole che io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di me mentre chi le ascolta inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno per sé crediamo di intenderci ma non ci intendiamo mai. Quindi è vero che sono studi accademici e magari che sembrano fin troppo filosofici in realtà quello che passa rischia di essere abbondantemente un discorso troppo stigmatizzato troppo stereotipato di un handicap e di una disabilità quando invece bisognerebbe più guardare a modelli più complessi anche perché oggi ci troviamo in una società molto più complessa molto più varia alcuni dicono fluida comunque sicuramente multicolore e dobbiamo imparare anche noi come comunità appartenente al mondo della disabilità adattarci e misurarci con questo mondo multifattoriale per cui è importante a tutti i livelli che questo messaggio venga recepito e venga divulgato da chi naturalmente è competente e ha le possibilità ripeto naturalmente date un'occhiata a questo studio e poi fatemi sapere le vostre conclusioni disabilità e benessere a cura di Emanuela Fatilli per la redazione di Senza Barcode consigli strategie e piccole curiosità per rendere la vita dei nostri ragazzi super abile